Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 un chilometro di coda in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino per un veicolo in fiamme. Sulla FIPILI per lavori, code a tratti in entrambe le direzioni tra Lastra, Signa e Ginestra Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso per un cedimento della strada, il tratto tra Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Con il rientro a scuola anche delle superiori è in atto una nuova fase del trasporto pubblico. Aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800 570530. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!